Trionfale vittoria in costa ad avoglio del presidente uscente Alassane Ouattara che ha ottenuto un secondo mandato di 5 anni. Alle elezioni di domenica, che hanno avuto un'affluenza del 54,63%, Ouattara ha ricevuto l'83,66% delle preferenze totali. Il voto è stato giudicato regolare e trasparente dagli osservatori. Vorrei congratularmi con tutti gli ivoriani per la loro maturità e il loro esemplare comportamento durante l'intero processo elettorale. Uno dei principali obiettivi del voto era mettersi alle spalle la guerra civile del 2011 e riportare la stabilità. Abbiamo tutti insieme l'opportunità di mostrare al mondo che la crisi scoppiata nel 2010 è ormai storia passata e che il nostro paese è entrato definitivamente in un periodo in cui vigono principi democratici. Nel 2010 le violenze si sono verificate dopo la vittoria di Ouattara quando il presidente uscente, Bang Bo, non ha riconosciuto il risultato elettorale. Oltre 3.000 morti. Bang Bo è detenuto dal novembre del 2011 alla Corte Penale Internazionale, il Tribunale dell'AIA, nei Paesi Bassi. È accusato di crimini di guerra. Grazie. 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 Grazie.